Bene Noctis Dove sei che Ah giusto te Non sei ancora su Discord Vabbè intanto apro portal Portal 2 Portal 2 Portal 2 E intanto che si stanno Cioè questi buttano l'aspirapolvere Quando Proprio nei momenti più stupidi Vabbè Portal 2 Steam is not running Cosa? Ma è aperto Steam Sono su Discord Ah ok Aspetta un secondo Che adesso faccio tutto E intanto questi si mettono a fare Che belli bug Proprio belli 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 bug Belli bug Belli bug Belli bug I bug di Steam Ok Eccoti Oh Gesù Aspetta un secondo Ok Porto 2 Avrò pure io porto 2 Dobbiamo di finirla Entro oggi Dai Ce la possiamo fa Non crashare Grazie Ok 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 si vede Tutto a posto Standard Cop E Ale Dai che stavolta Lo finiamo Sto gioco Lo finiamo una volta per tutto Ok 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 Prima che me la dimentichi Ora va meglio Ora va meglio Così almeno non si sente doppio Ah è vero Come l'altra volta Esatto Fortuna che i comandi Sono dove sono Deve un po' è basso Ok Un po' tanto altro No No Porto Voluta mia Bene Ora dobbiamo solamente Ora Come ora dobbiamo solamente Entrare in quella porta Questa porta va giù Vediamo Solo che Non so dove Ah ok Così 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 Passaci sopra Ok Ok A me è genio Eh già No aspetta un secondo Abbasso ancora un portal Che è troppo alto Ah ok Tranquillo Allora Intanto vediamo Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Sono Otto Stanze Ok Dai Vediamo di mettere fine Tutto questo Speriamo che non ci Eh lo spero proprio Spero proprio che dopo questa C'è il filmato finale E basta Che se no Altrimenti Aia Mamma mia Il filmato finale Il filmato finale Traine per arrivare Il volto umano Quindi questo In realtà Ha un punto Questi altri Corsi E' divertente Ma Siamo sinceri Ho bisogno di test Un soggetto umano Per essere La scienza Sei certo Valore per i soggetti umani Te GLaDOS Dopo quello che Dopo quello che mi stai Per trasformare In Un arrosto Nel primo Figuriamoci Ok Ah ok E' il poto per saltare Ah ok Allora aspetta Vai Mettiti qua Weee Ok Ok Viene anche da là? Si Ah Ok Guarda toccarmi Vai No Ok Ok Allora Cosa vedi là sopra? Eh? Che vedi là sopra? Assolutamente niente C'è un'uscita Metti un portale rosso Ok Bene Ah Pi' facile Ok 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 Ah Ora mi funziona Ma è cambiato Ora Ora mi funziona Il coso delle frecce Per selezionare Gli emote Ah ecco Con Q E ho il torcicollo Allora Ok Allora Bene Bene Ora Che bisogna fare Qua Non si sa L'acqua è uscito Il coso del salutare Ci possiamo pensare con un portale qui Solo che in modo dobbiamo capire A cosa ci serve La frecce dice su Ma non è che per caso Per caso eh Secondo me Dobbiamo No Io non lo so Aspetta Eh Dato Ok Bene Ora dobbiamo capire Cosa bisogna fare Adesso Allora Qua Qua Bisogna fare qualcosa Ma non so bene cosa La Secondo me Questa Un'altra La Si possono mettere Portare Ok Allora Qui c'è un raggio Capitazionale No Ma stai zizza Clados Allora Qua Dietro di noi C'è un raggio Capitazionale Ok Non abbiamo la Benché Mini Medi Di come usarlo Secondo me La ci sta Può piazzare un portale Da qualche parte Aspetta Ci sta Qualche portale Dei pauri No Piaciuto Ma se Uno va Ok No Mi raccomando Aspetta Questa Sarà dura Proprio Allora Perché qua Non ci puoi buttare Eh Esatto Ok Non so cosa ho fatto Va bene Qua Non ci posso Non ci arrivo Non vedo portali Da piazzare La La Nemmeno Oddio Per cascare Provo a fare No Non ce la faccio Secondo me Provo a piazzare Cazzo Ecco Bravo Allora Leva il portale Che Dopo che Sai che poi Sto a far scrivere Il portale Aspetta Mamma mia Genio Quindi Io ci arrivo Là Oddio Da solo No Però Ci vuole L'aiuto Della fisica Ah è vero No Non ci arrivo Aspetta E No Non ci arrivo Questa Mi sembra prenderà in corsa Ma ci provo Ego Capile YOLO Ci ho fatta Ma come Mi chiamo Mi padre Un secondo Ok Vediamo No Allora Fin qui Ci abbiamo Fin qui abbiamo Capito qualcosina Quindi Provo a fare una cosa Che ammazzo Senti chi parla Chi ha messo Sta stanza Sta stanza Complicato Ora Intendi raggio Capitazione Ah ok Ok Ma non è che per caso Ma per caso Non nemmeno visto Semplice Ma lì ci arrivi Pensi che ci arrivi Con un balzo No Non credo No cioè Non ci arrivo Vedi Questo è il massimo Dove posso arrivare Però Aspetta 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 Forse ho capito Ok Io uno qua No Ok Pensavo che andava Diversamente Ok Non è andata Come pensavo Allora prova a metterti Su questo bottone Io vedo se riesco A raggiungerlo Ok Secondo me così ci arriva Sì Ok Ora Ora il raggio gravitazionale Dovrebbe fare il resto Quindi scendo Che faccio? Lanciati Il raggio gravitazionale Farà tutto il resto Ok Ok Però cerca di salire Appena ce la fai No Noctis Aspetta 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 Teoricamente io posso fare Ecco E il ragazzo numero uno Test meno letali Bene così Comunque Comunque quello che mi deve arrivare È arrivato Manca solo Alex all'appello Che è sempre un gioco valve Ma nuovo Non mi viene inventa di niente Nuovo valve Nuovo Aspetta fammi rivedere il cartello Per quanto dice Infatti Dovevo controllare il cartello Il cartello Allora ci sta Rimbalzare E c'è il ponte E c'è il ponte Non è più facile Di quanto Motorabilmente Io penso Un portale Ok Quindi in pratica Dobbiamo raggiungere Dobbiamo salire Dobbiamo salire qui Oppure Aspetta Aspetta Qua c'è un pulsante Qua c'è un pulsante Penso il portale qua Ok Se premiamo il pulsante Mmm Buh Buh Va bene Va bene Ok Sì Ok Ah Sì E infatti Te pareva che fosse finito Eh infatti Troppo facile Ehm Ok No Non posso pensare Lai Non la facciamo Un pulsante Aspetta Allora No Chris Ho un'idea Tu Allora tu piazi i portali Mentre io vado a vedere cosa c'è là Ok C'è Vai L'altra leva Tranquillo 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 Ok Questa mi sa che la posto su Instagram Citazione a follie dell'imperatore Non so che qualcuno ha visto il film Io l'ho visto ma sinceramente non mi ricordo Non dirà che Prima il pulsante Ok Aspetta Perfetto Ora Ora Allora Allora E Allora Bene Passa Ok Bene Quattro era c'è Il gel per il rimbalzo Ok Eh però era meglio Se le va Vabbè No Non ce la posso fare Sta fermo Ma non ci arrivo Aspetta Aspetta Ah cazzo non ci arrivi E se ci fosse un modo per Aspetta puoi piacere un portale di fronte al ponte No No l'altro No Qua Là No A quanto pare No Allora 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 Pensiamo un attimo Ok 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 Credo di avere un'idea Mettiti di fronte al portale Di fronte al portale rosso che ti sei fatto Ok Ok Appena ti dico Appena ti dico Appena ti dico salta tu salti Vai Salta Salta Non è la cosa che doveva andare Ok Pensavo andasse diversamente Secondo me c'entra Il portale qua Tipo Ma certo Perché non ci ho pensato prima Ok Noctis Buona idea Perché infatti qua posso piazzare un portale Ok ho bisogno che tu facci un ponte per e premi il pulsante Ok qua E l'altro non mi prometto Qui Ah ma è vero Bene Ora prima di quello Ecco Bene Ecco il rimbalzo Vai Perfetto E intanto si sente l'aspirapolvere mortacci loro Ah ecco Speriamo Che Ce la facciamo Prima delle quattro No vabbè Prima delle quattro e mezza No Mi sa che partono Siamo quattro Siamo quattro su otto Vabbè allora ce la possiamo fare Forse Ma va che Ma va che Secondo me Oh no Oh no Aspetta Io lo piazzo qua Credo che sia tutto un salto Eh capito Anche io Credo che sia tutto un salto No Però Per farlo Aspetta Ok Ora Passiamo per qua Allora Ho bisogno che tu piazzi Un portale qui Eh Eh vabbè Là Dove Eh sì dove Aspetta Forse mi è migliore Da Da Perfetto Ora Allora Metti qua Vai qua Ho sbagliato di nuovo Annaccia a me Annaccia a me Quando sbaglio Allora ecco Eh ma lo so stupido Eh ma lo so stupido Però eh Oh no Lo verde di discord Doi qua Ok Salta Salto? Sì Sì Buttati sul portale Che è morbido Sbondi 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 Allora Allora Lì Lì c'è Il gel repellente Allora A me serve un portale Qui Che porta qui Dove? Ok 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 Vado a controllare Ragazza C'è Ok No Ok Premi il pulsante Premi di nuovo Ok 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 Vediamo se adesso Questa la posso attraversare Perfetto Ok Adesso È Il problema Il problema Ma è uno Ora Io non posso venire Dall'altra parte Teoricamente Non puoi piazzare un portale È troppo lontano Dove sono io No Ok Aspetta Non ci riesco Casco di sotto Però Dannazze Deve esserci un modo Eh Secondo me Aspetta Ma Io Cristo Perché mi sbaglio sempre No Secondo me Ci deve essere un modo Ma non è che per caso Forse ho capito Bisogna far rimbalzare Da lì No Però puoi cascare E così Eh Quello è fatto Premi pulsante Ok Se puoi Piazzare un portale Qua Premi pulsante Sì Ok No Di nuovo Vediamo Minchia però Che scatolone Aspetta un secondo E torno subito Che vado a prendere No Allora Mi sembra anche Di avere meno capito Sì al solito Ma proprio tanto Tanto Vabbè Ora Dove 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 Ok Qua bisogna Pensarci un pochettino Perché qua Non è facile Per niente Eccomi Ok 400 notifiche 400 notifiche Sì Cielo Ok Vediamo un attimo Di capire Come risolvere Questa situazione Qua non posso Passare i portali A Allora perché se tu passi Il portale si chiude E con esso si chiude anche L'unico punte Che ti permette di passare da qui Secondo me No ma torno ma perché Dove fare molto Secondo me c'entra qualcosa Rimbalto probabilmente Perché io qua potrei anche arrivarci Se voglio rimbalzare Il problema è che Il gel non arriva Non arriva nel ponte Esatto Ho capito Non ci ho pensato Allora aspetta Ho messo qua il portale Secondo me bisogna trovare un metodo Per buttare Quello rimbalzante sul ponte Così io posso rimbalzare Ok proviamo Praticamente dovrebbe Il bottone Sì un secondo Ok Un po' più giù Servire Per aspetto No da qua ti nemmeno Faccio Serve un po' più giù Aspetta Ecco esatto Ok 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 Aspetta che ci trovo Vai Ti vedo volare Eh esatto Ok Eh ce l'abbiamo fatta Ma perché non ci ho pensato Eh infatti No Vabbè C'è qualcosa Che non va Qualcosa che Cosa qualcosa che non va Che succede Ok Ce la fai Ok Perfetto Ora si è risolto Che è successo Non lo so L'accavo tutto Mi continuavo a pagare In mezzo a Al ponte Non lo so Magari stagionano qualcosa Magari stagionano qualcosa Sì Probabil 5 su 8 Beh Ci siamo quasi Ma che Ma che ho visto Ho dovuto ballare Che metti Dovrei spostare Questo tasto con le mode Questa è Ok ci sta qualcosa che non va con la mia wifi Non riesco a capire cosa Aspetta un secondo Che cos'è che non va Ho più Terminato tutte le attività Come termine tutte le attività Non farò che se no 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 Prima Quelle che occupano Cioè che hanno la wifi Vabbè stima Dove tenere l'aperta E' un No E' un Posso aiutere Termina attività Ok Palle stima Quello che mi Vabbè però stima Posso chiudere Ok Cerchiamo Niente Adesso Ah ok Qua dobbiamo Qua devi afferrare Allora Tu mettiti Tu mettiti in posizione Eh vabbè Mettiti qua Ok Ora Al termine del controllo la vescia Tu corri Perché qua devi correre E raccogliere La scatola Ce la fai? Posso fare Ok 3 2 1 Vai Ah l'hai mancato Allora fa una cosa Tu vai al pulsante Vado io a prendere la scatola Ma no Eh vabbè Eh Tito Non capisco Perché sta Vuoi fermi Cioè ti senti Vivi Oh cielo Ma in tutto ma dove sei? Eh sono qui Allora Io Io premo il pulsante Tu corri Vai Vai Ah troppo presto No Dai questa parte Questa parte è stupida Ce la possiamo far 3 2 1 No No Aspetta Vai Ok Vai Vai No C'ero quasi Mannaggia E che lo vuoi fai Mi falla che non capisco C'è Aia Ma non è possibile Cazzarola Via 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 Maddio Oh Ed è migliore Tu Tu vai al pulsante Vado io a prendere la scatola Ok Così Altrimenti qua Siamo qui per ore Bonna Come disattivo l'overlay di discord Così non mi arrivano le notifiche Credo che poi Poi disattivare l'overlay Tramite l'impostazione di discord Aspetta Aspetta Anzi silenzio direttamente Serve Faffancino Silenzio Silenzio Quello dei chitarri Pff C'è ciò che dà vita Questo qua che C'è 21 ping Vincere Quello di partire Di video giochi Va Ok Portalo Quando vuoi Tutti Ok Ok 3 2 1 Premi il pulsante No c'è Devi premere questo pulsante Ah Da Ok Vai Aspetta che mi posiziono 3 2 1 Ora Preso Ce l'abbiamo Perfetto Ah dai Oh no ci sta un altro livello giù Si C'è questa era una cazzata Questa era veramente una cazzata Se non fosse per il lag l'avremmo preso ha fatto anche in fretta E chi con Madonna sto Wi-Fi Ahia Che casino Allora qua c'è il bottone e qua c'è il coso per il gel Allora dobbiamo capire cosa bisogna fare What Oh mio dio no Noctis Ce l'ho tolta a capo Sei grasciato Madonna Shift tab Amico online Se i giocatori Ahia Ok Standard cop Oddio ora ci dobbiamo rifare tutto da capo Beh almeno almeno sono quella parte del salto col coso No più che altro la parte del prendi il barilotto e via Non ti vedo più su Steam Non ti vedo line su Steam No Miseria ma che è Madonna ma oggi casino proprio Proprio bordello Allora aspetta un secondo Allora chiudo portal Sì mi chiuditi ok Lo riapro No allora su Steam sto online Vediamo Strano Vedo eh Aspetta No mi dice che sto a classi È un fly Ma guardate i casino Casini su casino Connessione all'accanto Ok E mi dice che sto online Bene Benissimo Ma ecco ora mi dice che sono online Ok Ok Ti apro porta Ma di OneNote per un Windows 10 Non mi ho mai aperto in vita mia Cosa vuoi che te Porta 2 Aspetta che lo devo aprire Ok Aio Si ci vai Delato di valve Già Cooperativa Standard Coppia Allora Shift Tab Ok Perfetto Ok 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 dai ciao ciao ci siamo e lagga apri mettere il volume porto il dove sei a basso va più non sembra laggare sperando sperando il bene meno 200 uguali a tot no oddio dobbiamo rifarci tutto ah no bene male ha salvato no fortunatamente ha salvato in automatico ok altrimenti serve abbastanza infame sta cosa io so intanto la prima parte di quella stanza lì sappiamo come farla sì uno due tre e quattro ci mancano solo quattro stanze speriamo in me eh già uh 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 intendo che si apre la console pure intendo che si apre la console pure ma a quale siamo no no questa è una cazza questa è una cazza la porta nuovamente ok 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 bene ora tu vai sì bene c'è pulsante tre due uno troppo tardi troppo tardi anzi troppo presto e proviamo tre due uno vai ok bene c'è visto ci abbiamo messo a meno di due secondi per fare sta cosa si ma lei che ce l'ha ok mal di pancia mal di pancia aia ok ci siamo ora ricapitolando qua bisogna questa è una parte in cui bisogna andare veloce quindi ci serve molto il gel arancione ora ora c'è ah ok Vielen me ti te ti non te mi Adesso è un attimo come funziona il fatto Aia Ok Ora Allora Devi prima teletransportarmi qua Quindi piazzo un portale qua Piazzo uno qua Ok Allora io prendo la rincorsa Allora io prendo la rincorsa Piazzo un portale qua Allora io prendo la rincorsa Quando ti dico ora tu piazzi il portale Nella rampa che sta lì In quale? Quella in cui c'è il segno del portale blu Ok Ok Il portale rosso mi raccomando Si Uno Ma merda Mi sono confuso scusa Tranquillo Però hai capito come funzionava la cosa Si Allora Allora fai il portale giallo sta cosa Allora Ok Ok Vai Ok Bene Prendi la rincorsa Ok Uno Due Tre Bene Mettiti il sopra Sì E ce l'abbiamo E ce l'abbiamo E ce l'abbiamo E ce l'abbiamo Oh Ce ne mancano due Ce ne mancano due Ok Quindi veloci Oddio E ce l'abbiamo Ok Qui c'è il laser Il cubo per il laser Però qua Non si sa cosa bisogna fare Se non Bisogna piazzare questo No Ok Questo Ok ci vuole un altro spruzzo Di succo d'arancia Messa così è veramente brutta Come Sì Dopo 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 l'ultima live In Danganron Guarda I due pisenti Siamo veramente sprecati Con la parte lì Circa Ok Adesso Là si può piazzare un portale E Da quello che vedo qui Ci sta Ci stanno Le corrette Io credo di aver capito Forse Allora Se io vado a un lato Prendola rincorsa Non riuscirei Di arrivare lì No Aspetta Credo che tu deve andarci Deve andarci Pure col cubo Dici Sì Ok Dove il cubo Ok Vado Vai Dai Il cubo sparisce però Ah ok Mi ho dimenticato di sta cosa Il cubo spariva Eh Almeno sono ritornato qui Allora ci dovranno andare senza cubo Sì Però il problema è Cosa Cosa bisognerebbe fare Vabbè Piazza il portale è qua Piazzare io i portali Ok No però poi mi si levano se io ne piazzono Faticamente Perché poi io faccio Io intendo a quelli Piazzare Però Faticamente Aspetta fammi rivedere Come era Allora io vado qua Oh merda Ci sono le torrette E le dobbiamo eliminare No Ma il problema è uno E che Perché il portale E che Vabbè infatti Vabbè in pratica Prima che mi confonda Altra volta Noi dovremmo liberarci Delle torrette Col cubo Con il laser Del cubo Il problema è che Siamo in una situazione Abbastanza problematica A meno che non ci sia Un modo alternativo Per poter Cubo è sparito Qua bisogna fare un casino Qua bisogna fare un bel casino Allora Poi iniziamo a calcolare una cosa Quanti sei Deve so portare là No No più che altro Sto vedendo un attimo Sto vedendo un attimo Se puoi afferrare il cubo Per far sì che possa Potrei Eh sì però Bisognerebbe fare in fretta Perché il tempo che Il tempo che tu corra Aspetta Allora Allora io ti porto Allora io ti porto Io ti porto lì Vai Vai Allora io devo Io devo semplicemente Devo semplicemente Farti raggiungere Farti raggiungere Quello che bisogna raggiungere Perché infatti Vado Allora è un mezzo casino Perché in pratica Perché in pratica Bisognerebbe Saltare Poi tu Al momento giusto Riesci a raccogliere il cubo In modo tale Da poter Riuscire a Forse per questo motivo Che bisognerebbe Che bisognerebbe fare sta cosa Tu prova a saltare Cioè poi raggiungere il laser Bene Teoricamente Forse credo di aver capito cosa potrei andare a fare Allora Noctis Ho bisogno che Ho bisogno che tu mi piazzi Mi piazzi un portale Qui Ok Ok E qui Ok Bene Allora Tu adesso premerai il pulsante Ok Esattamente Appena Appena Ecco appena mi lancio Non va a dirci Ne portare Aia Se non sbaglio Non è facile Perché se proviamo a farlo in modo diretto Qua Qua proprio ci Si casca subito A meno che A meno che io devo piazzare dei portali qua e qua Mentre sono in volo Mentre tu piazzi un portale qui e qui In modo tale che il culo mi arrivi In modo tale che io lo raccolga e possa disintegrare quei bastardi Potrebbe funzionare però è un po' un casino Ah esatto Però ci provo comunque Piazzi i portali Uno qua E l'altro E' più appena Bene Allora Tre Due Uno Ah cazzo non ha funzionato Prova a metterlo nell'altro Lo giallo? Si con lo giallo Prova a metterlo qua Ok Beh effettivamente si è Senza Però non ci arrivi Secondo me Eh vediamo Tre Due Uno Si ok Ci arrivi forse No secondo me Te' anche troppo Abbasso Questo è complicato A meno che non ci sia un modo per poter riuscire a utilizzare il cubo da quella distanza Perché vorrei perlomeno Vorrei riuscire perlomeno a evitare di usare le soluzioni Perché sarebbe da stupidi imagine Perlomeno a evitare di usare le soluzioni Vediamo No Porca miseria Che senso sbagliato il 35 Pensavo di esserci arrivato Invece Spano il cubo Ora Si Prendilo No Ora Attiva il cubo Ora Ok Però Ah Ah Beh si effettivamente Senza Però Dai Ce l'ho quasi Manca Ce l'ho quasi Però abbiamo capito come fare Ah si esatto Per eliminare quei dannatissimi laser di merda Ok Ma quanti ne mancano No ne mancano Ah quelli Bene vai a spawnare in una scatola Ok 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 Abbiamo essi tutti fuori Bene Ok Questa è andata Ora possiamo Ora possiamo Ora possiamo levarci Dove scatola Le balle Noctis Prima te Ok Vai Ok Ok Donnazione Li piazzo io I portali Sì per favore No ok Ce l'abbiamo fatta A voglia Siamo quasi alla fine Dannazione No mi sono già No mi sono già vergnanti stacosi Ah ok Of course Eh vabbè Ah ok ho capito Quindi dobbiamo fare la solita rincorsa Allora mettiti al pulsante Che attiva il ponte Ok Vediamo se ci arrivo normalmente Con una corsa normale Con la corsetta normale Ah cazzo devo prenderla rincorsa Ieri mi sono fatto la doccia Sì Però c'è un problema Quanto è il timer Ah ok Pensavo ci mettesse pochi secondi Quindi si può fare Allora Io prendo Allora io devo prendere Allora vieni qua Aspetta un secondo Ok ecco Aspetta che Porta Ok Allora Piazza un portale qua Io prendo la rincorsa Mentre tu andrei a premere il pulsante E premere Allora premi prima quello che ha Per alzare il punto E poi quello per tirare fuori il cubo E poi vieni qua E piazzi il portale Il portale giallo qui In modo tale Che io riesca a raggiungerlo Ok vai Ok Quindi devo premere quindi Prima quello a destra E poi quello a sinistra Ok vai Ok Adesso Sì Ok 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 Ora Vengo lì Fai spawnare il cubo Eh già fatto Bene Metto quello giallo Sì Ok Ok Oh shit Ma Aspetta Porca miseria Allora riproviamo Oh mio dio Aspetta un attimo che No Ah suona la mia porta Ma chi è Ma mia madre no Sempre casino Maremma mi busca Sì infatti Secondo Discord Muta Secondo Me ne aspettavo un pochino Più complicati Questi ultimi percorsi E invece Potrebbe iniziare Potrebbe iniziare un po' di succo da lancia Mata E appunto E appunto Ecco Ci sono rimasti fuori chiusi di casa Vabbè Un po' come mio fratello Quando si scorda le chiavi Ok Allora riproviamo Metti il portale giallo qua Ah ok Secondo Bene Ora io prendo l'area in corsa Tu apri Poi tu Premi il pulsante Per aprire il ponte Poi piazza il portale giallo E poi vai verso Vai verso Il pulsante Che ti Può spawnare il cubo Ok Quando apro il No Apri ora il ponte Ok Certo Sì Ora vengo a piazzare il portale giallo Ok Vai E Spiegati Vai 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 Ok Ce la facciamo Ce la facciamo Sì Ce l'abbiamo fatta Sì Grazie Vabbè Un milione contro uno Ma che cazzo Vabbè Dai Vediamo di finirla Ciao 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 Dai Ciao 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 Ok Vabbè 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 Dai, dai Bene, vai a prendere il pulsante Vai, vero? Si Sto a dover morire Vai Ma che cazzo Qualcosa è una cosa Ok, credo che questo sarà ligilessimente erognoso Ok, ok Ma non sembra nemmeno così tanto difficile secondo me Cioè dobbiamo solamente fare il percorso per la rincorsa Esatto Oggi il mio gatto Guarda la pulsante Mentre guarda il mio gatto mi sono suicidato per sbaglio Mi è messo Ok Pulsante Ok Ma lo sai che è? Perché gocciola quel coso blu Quindi la cosa arancione poi se ne va No, più che altro ho bisogno ho bisogno di fare un po' di fare... Imbrattare questo pavimento Secondo me devi utilizzare questi Quello è quello E lo è quello Il problema è che c'è questo Il problema è che c'è questo Il problema è che c'è questa barriera che mi impedisce proprio di piazzare portale Allora, secondo Modifica tasti pulsanti Ehm Menù gesti Mettemmo questo Modifica tasto Questo Ecco Vabbè Aspetta credo di aver capito come risolvere la cosa Oddio Eh vabbè sono un sesino Ma questo è un coglione Ehm Secondo me bisogna fare tutto il buono Tutto il buono Ah Ah Allora qua non si può proprio fare nulla perché gocciola e basta non è che ci sia Eh esatto Secondo me Sì Aiuto No 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 Ma porca Molti Che Ma dass etwas qui I like this Niente Ma se non riusciamo neanche a fare il minimo passo Figurano di te Glados Ho un'idea Mi piace un portale qua Ok Bene, vieni qua Ho preso un portale Ecco, entra Ho preso un portale qua Ok Proccio Ora Vediamo un attimo Ok Il fatto che io non posso Che non possiamo Piazzare qualcosa Ma perché ho pienso Stiamo cercando di pensare qua Eh vabbè Ho questo un coglione Allora Pensiamoci un attimo Non possiamo imbrattare tutto A meno che Non ci sia un'altra maniera Perché Allora perché in teoria Dobbiamo prendere la rincorsa Secondo me dobbiamo fermare quel Premi il bottone Noctis Premi il bottone No, sì Secondo Sto pensando Un po' In questo momento Non abbiamo la benché Minima idea Ma proprio la minima idea Di cosa bisogna fare Oh 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 andrà anche in bagno, aspetta cazzarola qua servirebbe proprio l'eruzione bianca per poter piazzare i portali qua in giro, cristo mamma mia ma non ci stiamo capendo niente esatto ma adesso mi devono scrivere ma non ci stiamo capendo andiamo, deve pure esserci qualcosa che ci siamo lasciati, qualcosa di importante qualcosa che ci è molto molto importante ma porca porca di quella porca aspetta 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 cosa? non è che ci serve un portale qui, un portale qui, è una parte che non abbiamo provato a fare ma secondo me c'entrano sti cosi per forza allora secondo me se si piazza un portale qua, no? che si ha la rincorsa secondo me si può rimbalzare da qua fare una rincorsa da qua, rimbalzare da qua e arrivare là si ha la rincorsa però proviamo il problema è che purtroppo l'arancio non arriva qui non arriva qui e non ci sono altri punti in cui possiamo piazzare il portale a parte, a parte lì, qui, qui, e lì ah, infatti eh, allora forse, sì, sì allora ok, prova a fare una cosa piazza un portale lì ok eh, provo a piazzare uno qua no ok, se io lo piazzo qua, no però no, non credo lancio come è da solo morire serve tanta rincorsa secondo me aspetta ma non è che per caso no, ho sbagliato no, ho sbagliato mi piace un portale mi piace il portale qua e qua forse 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 darne una qua sì e li assigliano là l'altro qua sì ok vediamo se così si riesce a questa situazione aaaaaaah ah, ok adesso ha più senso con sicurezza ok ci prova vai vai sì ok ora vengo anch'io dai dai che siamo arrivati alla fisina dai che abbiamo quasi finito ok ok ah qua dobbiamo fare una ca... dobbiamo andare in cauta libera ah il problema è che dove possiamo piazzare il portale senza cadere nella melma eh io so c'è un punto lì allora c'è un punto lì ho un'idea adesso il portale è qui e poi lo piazzi nell'altro lì un altro punto aspetta ok là ok nell'altro nell'altro nel punto dove stava dove stava ovvero questo qua ok ok bene bene ora ok ci devo semplicemente buttare oh shit ma dove sei sono qui buttati no non lì dove dove hai piazzato il portale e vabbè dove è ti ricordi hai notato che ti avevo fatto piazzare il portale apposta dall'altro lato eh ok ecco vai al portale a lancione ok deve essere il portale a lancione lanciati lì seconda no indietro sinistra vai 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 ecco lì 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 ecco lo sapevo non fuori perché era scontato però non lo sapevo tanto il portale lo tengo aperto si si ok oh no adesso ho proprio di piazzare i portali perfetto avevo piazzato uno là mhm e l'altro dove stava mhm qui e l'altro qua ok perfetto e l'abbè ok se l'abbiamo ti avrei finito? no allora ok allora qui poi che si può fare ok qui bisognerebbe prenderla in corsa ok hm 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 ok ok qua mi sa che mi servirebbe il tuo aiuto ok vai aspetta 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 ok è stato un portale quindi in pratica dobbiamo tirare le leve ehm però per farlo devo bisogna però per farlo non ha benché minima idea no questo è un bottone che fa e che fa hm 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 provo a shift arti magari ci arrivo ho una mezza idea hm 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 ok 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 ora dove lo dobbiamo utilizzare ora il problema è uno dove lo dobbiamo utilizzare controlla in giro un interruttore un interruttore qualcosa che possiamo utilizzare qui qui si può passare qui si può passare ah poi che alla fine si poteva si possono saltare aspetta questo trucchetto mi sa di riconoscerlo torna indietro torna indietro ok vai vai in quel portale lì tu contro tu vai un attimo a controllare il grattaforma beh no ok dietro girati aspetta ecco infatti si alza da una ok ora si è bastato ok quindi abbiamo poco tempo ah ok devo farci volare il cubo ok ok 3 2 1 via premi il bottone io premi un altro perfetto uff alla fine ci potevamo buttare direttamente ah aspetta se porta per sua porta qui oh merda ok qua c'è il coso per il salto eh si però ora si è levato il portale dobbiamo rifarlo la cosa del cubo eh peccato solo che il cubo non ci arriva da qui perché c'è la barriera eh si però si però oh merda ci sono le torrette nemmeno l'avevo vista mmm noctis noctis ho bisogno che tu ti metta qui cazzo eh 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 trova a rimbalzare ti ricomento ah ah ce l'ho preso ce l'ho preso ok quindi adesso mmm sto pensando sto pensando dobbiamo liberarci di quei bastardi boh ah perché in pratica allora si abbiamo aperto siamo riusciti a mettere il coso arancione per poter prenderla in corsa però ci manca il salto quindi vediamo ho bisogno che tu piazzi un portale qui e ne piazzi uno qui uno qua e l'altro? qui bene e voglio che tu rimanga qua dentro qua vai ok eh vabbè ma porca di quella ma prima ce l'ho riuscito prima ce l'ho riuscito mmm cazzo queste torrette sono complicatocce da buttare giù ma non mi facevano tutti quei danni eh? ehm? non pensavo che mi facevano tutti quei danni di già ehm? cioè mi hanno shottato in due secondi eh eh vediamo ok 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 no merda per poco per poco per poco non ce la facevo cazzo questo è difficile eh questo è abbastanza difficile porca rico la porca ok riproviamo ok 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 ci voglio credere sono caduto come un idiota stiamo cercando un attimo di capire come risolvere questa situazione del manga ok aspetta un secondo che è un po' che è un po' no 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 eccomi no 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 ora prima era andata diversamente è rimbalzo prima è tipo partito e per me è che questi bastardi non mi faranno passare tanto facilmente deve esserci una soluzione migliore cazzo dovrà pure esserci una soluzione migliore ah ma sono andati a me allora Allora Ma porca Niente Cioè sto cercando di risolvere questa cosa in mille modi possibili Però Cristo Cazzo siamo praticamente arrivati alla fine E c'è questo ostacolo del merda che non riusciamo a superare Cazzo Allora Credo di aver capito cosa bisogna fare Metti il portale nel raggio gravitazionale e poi mettilo qui Metti un altro qua Ok non ho messo nulla Mettino uno nel raggio gravitazionale Oh shit Vai Ok premi il bottone Posso piazzarne uno qua vero aspetta Fondo Ah ma Niente Il problema sai qual è Mi sai che dovremmo utilizzare il raggio gravitazionale Con il gel repulsivo Il problema è che siccome ogni volta che passo là il portale si disabilita Ma Eh come Eh Ah Beh E' proprio fare No Non c'è lì Forse si No 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 Che o' che no Vado aspetta Che li metto qua No No Così Non è bello Non è bello è un bordello cazzo allora io vorrei piazzare l'anno che si non c'è arrivato però prova a piazzare è perché c'è la barriera ma non è che per caso ma dico per caso è impossibile a meno che a meno che allora tu debba tu debba piazzare allora piazza il portale prima del raggio gravitazionale ok infatti un po' lo piazzi sopra qua? si piazzare davanti qua stai sul pulsante no spai però così è una stronzata mamma mia ma chi è il pazzo malato che riesce a fare una cosa del genere in pochi secondi proprio in pochi secondi eh che puttana allora perché allora se io se noi proviamo prima a piazzare un portale qui non credo che andrebbe bene ah porca puttana cazzo deve pure esserci un modo dai non possiamo rimanere sbloccati per delle stupide dorrette se no ci fosse un modo per liberarci di quei maletti bastardi in poche mosse peccato solo che porca troia che porco cazzo 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 siamo arrivati siamo arrivati alla fine vediamo di riuscire a finirla allora allora cazzo 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 Ok credo che qua bisogna balzare In qualche modo Prova a balzare Porca broia Beh ora ci sono liberati delle torrette Almeno è già una buona cosa Ora però dobbiamo capire come risolvere Questa situazione Aspetta Ok ho capito Eh anch'io Aspetta se io provo a fare una cosa così Aspetta No Aspetta Ok credo di aver capito Aspetta non è che devi entrare No aspetta è impossibile Sboglio 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 E' arrivato Ok cosa vedi Il bottone Un bottone si Premilo 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 Ok Stasera Stasera me butto Stasera me butto Ok Easy Ok Ok E' ora di uscire Uscire In finita sto gioco Cosa Cosa Ah Lados Si Andate per tentativi Che intendi dire Lados Non ho capito ma potete rinunciare adesso Che facciamo Ehm Ehm What about that camera The lighting mechanism can tell you aren't humans No Vabbè Ehm Ehm Come 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 We're so close You can't fail now Ma aiutaci il grado Se invece di Daci almeno un suggerimento Qualcosa Aspetta Non è che per caso No Vero Ok Saluta Ok Oddio Abbiamo finito il portal 2? Credo Ok Si è aperto il bolt Che dobbiamo andare a liberare degli esseri umani Probabilmente troveremo solo testchi umani quello che Glados ha ucciso Si Com'abbia Ma 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 Sono tutti intrappolati Ma che c... Ma come abbiamo tolavoro da sa sta a meno i titoli di decoda andiamo a me a me sta ancora caricando ci siamo camminiamo si bene quindi questo era la campagna co-op di portal 2 c'era quanti live ci abbiamo messo? ci abbiamo messo due live per finirlo si due live due cazzo di live non beh almeno però dai almeno nonostante la difficoltà mi sono divertito si si ti ringrazio anche Noptis per avermi fatto da spalla per questa campagna co-op oh dio mio incapace di ascoltare con attenzione incoherentale 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 non capisco cosa sta succedendo dietro niente semplicemente lo scanner sta scandalizzando tutta la gente tutta la gente calcana che nei titoli scusa c'è anche che newell che novità grazie gay ben deve aver creato questa tortura grazie mille perché però ci è piaciuto dai bene e con questo posso dire finalmente che abbiamo finalmente concluso finalmente per sempre porta al 2 allora non sono ripreciso cosa potrò portare lunedì dopo dopo porta dopo porta al 2 visto che visto che sto preparato visto che mi scherzo aspettando di avere la possibilità di prendere un altro gioco valve ma questa volta questa volta ma questa volta quello più recente ovvero al fly falix e se avete e se avete visto il posto su instagram avrete notato che avrò che ho comprato una periferica una perifica molto particolare che con che è quello che mi prende che quel che l'essenziale dicevo che è l'essenziale per poter giocare ad al fly falix perché infatti al fly falix è parti è particolare però è pur se però è una però è una figata ed è ed è stato ed è stato fatto con il nuovissimo motore grafico source 2 ovviamente creato da newell con la vagonata di soldi di che c'ha soprattutto perché proprietà di steam eccetera 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 ma finché non finché non potrò prenderlo devo vedere un po devo vedere un pochettino lo vedono un pochettino o posso scala quindi in pratica lunedì il prossimo lunedì farò un sondaggio se tirare fuori una serie fissa nel frattempo che prendo anche quando che devo prendere alix quindi sostituirà sostituirà ai giochi valve più o che voglio perlomeno mangiarmi tutti i giochi valve tutti i giochi valve prima di poter passare ad altro oppure posso trasformare lunedì in una live random in modo tale da poter in modo tale da poter non lo so far tornare far tornare un pochettino questa piccola routine tra due live due live di serie fissa è una live random dove 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 ovviamente ovviamente se non ha capito cosa significano le live ranno so praticamente io che gioco che gioco a qualcosina che gioca qualcosa tipo dead by day light valorant e tante altre cose che è che giustamente durano un pochettino però sono sono divertiti sono belle sono belle da giocare circa dai sono contento che siamo riusciti finalmente riusciti a finire a finire quella dove ho finito infatti voglio anche ringraziare te noctis per avermi fatto la compagnia e soprattutto per avermi aiutato per avermi aiutato in questa impresa perché è che infatti infatti io e che infatti ho provato a chiedere un pochettino la chaos community ovvero la community con cui lavoro con cui collaboro se potevano darmi una mano con con una copp però siccome sono tutti impegnati io non voglio non voglio ruppere il cazzo a nessuno mi sono detto perché no se qualcuno è interessato non so se l'ho detto su telegram o su discord su discord che se qualcuno era interessato a fare la 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 copp di portal 2 giusto per completare tutto 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 portal 2 però vabbè grazie per aver partecipato a questo enrichment center activity grazie glados che vuol dire cosa ci enrichment center centro arricchimento mi sembra perché non perché non sono non sono molto bravo a tradurre però dovrebbe essere arricchimento abbiamo fatto in tutto questo abbiamo fatto io ho fatto diciamo 9000 passi siamo arrivati a 2067 punti collaborazione punti collaborazione abbiamo piazzato 1175 portali come donna abbracci zone a bassa resa ok viaggi nei portali 976 c'è qualcosa altro che vuoi farci vedere 23 disastri evitati ok basta è finito ok credo che abbiamo appena finito cioè tu hai fatto 15.000 passi io 19.000 quindi termino qui questa live e termino ufficialmente questa serie spero che questa live vi sia piaciuto spero che questo spero che questo gioco vi sia piaciuto non sarà l'ultimo gioco valve che farò perché anche infatti sto già preparando per prendere mi sto già preparando a prendere al fly falix e una volta che è piccola cosa una volta che avrà preso al fly falix siccome un gioco particolare non ci sarà la webcam ma bensì ma bensì devo impostare un pochettino una collezione di scene per poter per poter giocare a questo gioco perché siccome questo gioco serve una periferica particolare che gentilmente vi invito a dare a vedere voi stessi tramite il posto su instagram che cito ovviamente per farvi capire che fra giustamente è tutto spero per lo meno di riuscire a portarvi il gioco spero di riuscire a portarvi il gioco senza per senza problemi con i frame e senza che la mia cpu si fotta in qualche modo anche se dubito fortemente perché supera perché supera per lo meno il processore richiesto per poter questo gioco super il processore per questo gioco bene quindi spero che spero che la live sia lasciuta ringrazio noctis per l'aiuto per avermi fatto la compagnia in questa bellissima avventura cooperativa grazie noctis ok e se volete cliccate il connato a destra e tenete il campanino acceso per rimanere sempre aggiornati seguitemi su instagram e se potete comprare dei giochi vi lascio questo link dove potete comprare dei giochi a basso prezzo e se volete far visita alla community al mio network che è in pratica lavoro vi lascio questo dove potete dove dove potete farvi mannaccia a me ts.gausscommunity.org dove ci dove ci siamo io e i nostri collaboratori e inoltre nelle info del canale troverete troverete anche il mio canale tele nell'info del canale qua sotto oppure a qualche parte a seconda di dove state guardando la live potete trovare la mia il mio link dove vi portiamo al mio server di discord e al mio canale telegram e soprattutto soprattutto vi consiglio di dare un'occhiata e dare un'occhiata anche a questo a questo canale al canale al canale dove dove lavoro dove lavoro perché lunedì perché martedì ogni martedì faccio dead by daylight faccio dead by daylight ogni martedì quindi se volete vedermi sclerare cazza de varie o se volete farmi compagnia potete semplicemente venire venire lì e farmi un salutino bene detto questo spero che la vi sia piaciuta spero che proprio vi sia piaciuta ringrazio tutti quelli che sono appena arrivati tutti quelli che ci sono tutti quelli che sono andati di fretta e noi ci rivedremo e noi ci rivedremo o martedì per dead by daylight su un altro sul canale caos community o giovedì per doom eternal sempre alle 15 quindi ci vediamo ringrazio noctis ancora una volta e ci rivedremo giovedì o martedì o martedì a seconda di dove volete e a seconda di volete farmi risda ciao a tutti arrivederci oh yeah oh yeah ciao 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 Grazie a tutti